Un dossier di particolare importanza che dovrete affrontare? Ci sono già tre argomenti, tre documenti che devono essere assegnati a dei relatori. Martedì discuteremo a chi assegnarli, anche perché vengono per pressi assegnati a un relatore di maggioranza e a uno di opposizione. E quindi senza nessuna preclusione verso alcuno, verso alcun gruppo lo sottolineo. Martedì decideremo a chi assegnare questi tre documenti e quali relatori nominare. Dopodiché c'è la spazio anche per l'attualità, ma naturalmente l'attività, il rendiconto dell'attività svolta fino a dicembre dell'anno scorso. Poi la questione che riguarda la parte economica di funzionamento del comitato è un altro argomento che è una valenza esterna. Verrà discusso martedì. Sono documenti buoni su cui iniziare ad esercitarci sapendo che si tratta di questioni delicate. Quindi partendo mi auguro con il piede giusto. Questa è la commissione di...